Ed è il rete, ed è il Gotti tantissimo! Questa rete conferma le sue eccezionali qualità, vede la porta come pochi anni. Non ci ha pensato due volte per tirare da quella distanza, scaricato in rete una portata lucidiana. Aveva spazio davanti a sé, non ci ha pensato. E forse con un giocatore così bisogna andare sempre molto attenti nella marcatura.